E' il momento di accelerare e di cambiare passo. Il tempo che passa gioca solo a favore dello spopolamento. L'ha detto l'assessore al cratere Guido Liris, che su delega del presidente Marco Marsiglio ha partecipato al vertice che si è tenuto nell'Alta Valle dell'Aterno, a Campo Tosto, alla presenza del neocommissario per la ricostruzione 2016-2017, Giovanni Legnini, e dei sindaci dell'area. E' stato un incontro molto proficuo, ha detto Liris, con Legnini c'è un'ottima intesa che ha consentito di reimpostare quasi completamente il percorso che deve condurre all'accelerazione immediata della ricostruzione di zone che hanno patito due catastrofi e che rischiano seriamente di scomparire. La legione potenzierà il suo ruolo di regia tra il vecchio cratere 2009 e quello del 2016, affinché si superino tutti gli ostacoli burocratici e procedurali che hanno rallentato la rinascita.